La presentazione del rapporto sull'econicità di oggi ci racconta di un Paese deseguale una volta di più. I diritti non sono uguali per i nostri cittadini, non sono esigibili in ogni angolo del Paese allo stesso modo. Abbiamo un Paese diviso per codici di debbiamento postale, questo non è accettabile. La dignità delle persone non si imbaratta e per quanto ci riguarda una volta di più ci batteremo per far sì che non bisogna aspettare la prossima generazione per il cambiamento, ma che immediatamente venga creata la dignità ed esigibilità di diritti a tutte le persone in ogni angolo del Paese.